Si chiama Amber Luke, di te che ho parlato in tanti dei miei video, è infatti la ragazza più tatuata tutta l'Australia, continua a decorare il corpo di recente messaggio che si è fatta colorare anche le corne e 7 anni prima ha perso di tua la vista per colpa dell'aco, rimasta cieca ben 21 giorni di tempo, una vicenda così incredibile, bubbi oculari diventati blu in tezzo, pigmentazione alterata, la ragazza ha ammesso che è stata diciamo così una scelta importante, coraggiosa, abbastanza brutta e difficile da gestire, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, i commenti di tanti follower non sono mancati, molti noti di caso, probabilmente.